Moreno Di Pietrantonio dal Partito Democratico di Pescara arriva a una proposta interessante, quella sul reddito di dignità, attingendo dagli stipendi dei consiglieri regionali. Crediamo a un intervento che sia attorno ai 500 euro al mese, parallelamente creare tutti quei meccanismi che portano alla formazione professionale e poi al graduale inserimento nel lavoro. È un'iniziativa che poi è in tutta Europa e quindi crediamo che debba essere attivata anche nel nostro paese e anche nella nostra regione. Tutto questo si può fare, si possono trovare le risorse, i consiglieri regionali hanno uno stipendio di circa 10.000 euro netti al mese. Noi chiediamo che venga ridotto del 50% e di portarla a 5.000, che crediamo che sia anche una cifra sicuramente adeguata per l'importante lavoro che svolgono. E' tutto quello che si riesce a ottenere, creare un primo fondo per questa importantissima iniziativa. Chiaro che poi bisogna trovare anche altri fondi. Chiediamo altresì al Presidente del Consiglio regionale di attivare nel Consiglio regionale una forma di rinuncia alle carte di credito e alle spese di rappresentanza, in modo tale da andare ulteriormente a rimpiguare questo importante fondo per le persone che non hanno reddito. Io credo che il Partito Democratico debba approfittare e fare proprio questa iniziativa a livello regionale, portarlo avanti, le istituzioni che governiamo come la Regione, perché questo davvero ci ridarà la possibilità, prima di tutto, di ridefinire ulteriormente essere di centro-sinistra e poi soprattutto ci riporterà ad avere una vicinanza di più con le persone. Grazie. Grazie.